Musica Avevamo pensato a mille modi per farvi gli auguri, però abbiamo ritenuto più opportuno farveli reali nella nostra vita durante una delle nostre famose passeggiate di cui sempre vi parlo Stanno sotto l'albero di Natale, un libro di cucina che vi regaliamo con tutto il cuore Ricchi premi, ricchi premi, mi raccomando partecipate numerosi al nostro giveaway Lasciate un commento qua sotto, sotto l'albero di Natale, no, tra i commenti Riceverete un cucchiaio verde, un ricettario che a me piace tantissimo Uno dei miei preferiti è un bellissimo scovolino, come si chiama, un bellissimo frullino per il cappuccino Frullino, sì, sì, è anche una campana omaggio e quindi noi ci vediamo presto Sulle vostre tavole auguri, che bello, a vedere l'albero Yeee